Ok, buonasera qui in India del Papa Charlie, Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Noi vi ascoltiamo un quinto comprensibile. Come ci ascoltate? Ok, adesso passo il microfono al nostro Capo Dipartimento per il messaggio che vuole trasmettere. Ok, grazie. Comandante Bacchi, buonasera, sono Borrelli. Buonasera, buonasera comandante, buonasera a tutti. Vi voglio ringraziare per aver partecipato insieme a noi a questa prova di comunicazione radio organizzata dall'amico Giannino. Devo dire che l'amico Giannino è il fautore e insieme all'onorevole Zamberletti il fautore dell'utilizzo di questo mezzo di comunicazione che in emergenza si rivela fondamentale quando tutti gli altri mezzi di comunicazione non sono in grado di operare. Noi puntiamo molto anche sul mantenimento della rete di comunicazione dei nostri radioamatori. I nostri radioamatori fanno parte a pieno titolo della Protezione Civile e sono contento che questa rete che coinvolge tutte le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile e delle Prefetture giunga fin anche sull'americo Vestucci. Voglio con l'occasione ringraziare lei, il comandante, e augurare, come si vuol dire, un buon vento a lei e ai cadetti che vi avviate per questo periodo formativo in mare. Grazie a tutti.